e veniamo adesso a parlarvi di marco cartasegna perché ci sono delle novità che si chiama valentina allegri già come probabilmente avrete già intuito marco cartasegna ha una possibile nuova fidanzata e come il nome indica chiaramente valentina allegri altro non è che la figlia dell'allenatore della juventus massimiliano allegri la scorsa settimana infatti la coppia è stata avvistata in un noto ristorante di milano proprio con lei una cena a due a confermare in qualche modo la notizia anche il fatto che la stessa valentina allegri lascia molti mi piace nei post di instagram di marco cartasegna oltretutto la notizia sta circolando da alcuni giorni e al momento nessuno dei due la sta smentendo ovviamente una notizia del genere è giunta anche all'orecchio della ex fidanzata federica ben in cia che direttamente da instagram ha commentato l'unica cosa che posso dire è che marco si è stato innamorato di me sarei un'ipocrita a dire il contrario ma diciamo che la volubilità dei sentimenti non mi appartiene e non deve appartenere tanto meno al mio ipotetico uomo lo sapevo già da qualche giorno dicio ma va bene ed è giusto così gli auguro tanta felciita e da oggi non volto pagina ma cambio libro insomma la conferma nemmeno troppo implicitamente della storia fra marco cartasegna e valentina allegri arriva quindi proprio dalla ex poi perché ancora si continui a parlare di amore per una storia di un paio di settimane la sottoscritta ancora non riesce a capacitarsi